Dopo il vertice di ieri con la prefettura di Pescara e la decisione di prorogare di un'altra settimana la chiusura delle scuole di Pescara, Montesilvano, Spoltore e Città Sant'Angelo, oggi il sindaco di Pescara Carlo Masci, ricevuto il verbale della ASL, firma l'ordinanza che prorogherà lo stop alle attività didattiche in presenza a partire da lunedì 1 marzo. Anche i sindaci degli altri comuni della provincia, in base all'evoluzione del quadro epidemiologico, potranno disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza. All'origine della decisione ci sono le valutazioni degli esperti dell'azienda sanitaria locale che hanno sottolineato come, nonostante la zona rossa, i numeri dei positivi al coronavirus siano in aumento, soprattutto nella fascia di età 0-19 anni.